Buonasera, innanzitutto voglio ringraziare la Domus Robica per avermi ospitato per parlare dei sacrifici umani in Roma Antica. In questa chiacchierata vedremo non solo i dettagli tecnici e le ragioni di questi sacrifici, ma soprattutto vedremo varie situazioni come i sacrifici compiuti da Giulio Cesare che poi fece appendere delle teste alla Regia, oppure il pettegolezzo che riguardava Ottaviano che fece sacrificare 300 notabili a Perugia, ma vedremo anche il significato sacrificale che avevano i ludi gladiatori in origine, come anche l'origine del fascio littorio e di come la decapitazione nel mondo romano anch'essa rappresentava un sacrificio umano espiatorio. Parleremo anche di sacrifici fatti a cerere per coloro i quali erano rei di averle rubato una parte del raccolto impiccandoli ad un albero che le è sacro e molti altri esempi e confronti con i casi di Tarquinia, con la fondazione di Roma e con il materiale anche archeologico che è stato ritrovato nel mondo romano ma anche nel mondo italico. Non siamo qui naturalmente per giudicare il fenomeno con gli occhi di noi moderni, anche perché stiamo comunque parlando di una società di 2000 anni fa, siamo qui per cercare di capire i motivi che spingevano i romani a compiere sacrifici umani, qual è stato il processo e la sua evoluzione, naturalmente affrontato nei termini che si può fare in una conferenza di un'oretta, e per cercare di capire anche qual era il valore della vita degli esseri umani per i romani. Vorrei cominciare attirando la vostra attenzione su una delle fonti principali che è Plinio nella storia naturale che fa riferimento ad una legge fatta dal Senato nel 97 a.C. che dice chiaramente che nessun uomo potesse essere sacrificato. Questa è la prima legge nella storia dell'umanità che vietava i sacrifici umani. Tra questi sacrifici umani noi vedremo anche il caso interessante di Tarquinia che è interessante intanto perché è la città da dove vengono i re etruschi di Roma e poi perché è particolarmente interessante l'area sacra e i risultati che gli scavi archeologici hanno messo in evidenza. Ma prima di tutto cerchiamo di capire che cos'è un sacrificio per i romani. Il termine sacrificium deriva dal... è una parola composita dei termini sacrum facere che significa rendere sacro. Cioè nel momento in cui si fa un sacrificio non è necessaria che... non è necessario che venga ucciso o che venga donato in senso assoluto. È proprio un dono. Questo dono regge il rapporto do ut des, cioè do affinché tu mi dia. Questo rapporto è tipico del romano nei confronti della divinità. Già Taylor ancora nell'Ottocento aveva messo in evidenza questa cosa sottolineando il fatto che il rapporto dell'uomo nei confronti della divinità è paragonabile a quello dell'uomo nei confronti di un uomo superiore, un capo, il capo tribù, il re, e che viene ricambiato a sua volta nello stesso identico modo col quale la divinità dovrebbe rapportarsi nei confronti dell'uomo stesso. Questa cosa qui nel mondo romano noi la vediamo con la Pietas che è una delle cinque principali virtù dell'essere umano che descrivono il Mos Maiorum. Voi dovete pensare che il rapporto religioso del romano nei confronti degli dèi è sostanzialmente finalizzato ad ottenere la Pax Deorum, cioè quel rapporto di pace tra il romano e gli dèi e tra la comunità dei romani e gli dèi che prevede che l'essere umano faccia doni e sacrifici agli dèi ma che si comporti anche secondo un certo costume, gli dèi in cambio avrebbero favorito Roma e i romani. Questo aspetto dell'offerta non prevede solo ed esclusivamente che si doni una qualsiasi cosa. Il valore di quello che viene donato non è tanto un valore intrinseco in quello che è, o meglio, il suo valore intrinseco è dato dal punto di vista qualitativo. Per esempio dono un certo animale, dono una certa pianta a una certa divinità e non ad un'altra. Ma dal punto di vista quantitativo conta soprattutto quello che il singolo toglie a sé per darlo alla divinità. Questo per noi sarà importante dopo quando capiremo, quando andremo a descrivere una serie di esempi di sacrifici umani che avvenivano nel mondo romano. Tornando al concetto della Pietas, questo nasce all'interno della stessa famiglia romana. Infatti Pietas è il rapporto che ha il figlio nel confronte dei genitori, ma che hanno anche i genitori nei confronti del figlio. È il rapporto che il buon cittadino ha nei confronti dello Stato o che il Senato ha nei confronti della cittadinanza. È il rapporto che ha il pater familias nei confronti degli dèi, ma è anche il rapporto che i soldati hanno nei confronti del comandante, un rapporto di lealtà. Per cui vedete che la Pietas regge tutti gli aspetti sociali del romano all'interno del suo Stato. È una forma di devozione. Noi non la dobbiamo però concepire come una serie di obblighi formali, come verrebbe da dire oggi, oggi quando si parla di morale si tende ad immaginarlo come degli obblighi imposti, ma è proprio il risultato di un amore, è il risultato di un sentimento sincero che ha come conseguenza tutta una serie di comportamenti che per il romano sono scontati, sono ovvi, per cui chi non li compie è prima di tutto un empio, cioè un uomo privo di Pietas. Il fatto che questo rapporto tra l'uomo e la divinità sia un rapporto di scambio non deve però essere inteso in senso materialista, cioè io ti do questo, tu mi dai quello ed è finito lì, ma è proprio un rapporto, ribadisco come dicevo prima, sincero ed lascia anche trasparire il fatto che i romani vedessero una profonda spiritualità in questo perché vedevano gli dèi in ogni aspetto della loro vita, nel mondo romano non c'è una reale differenza tra ciò che è sacro e ciò che è profano, tutto è sacro, ci sono divinità che riguardano gli aspetti più minuti della vita quotidiana, vervactor è per esempio il dio che presiede all'atto di arare, sterculus il dio che presiede alla concimazione, ma ci sono anche divinità che presiedono il primo vagito del bambino, i suoi primi passi, il momento in cui il pater familias lo riconosce sollevandolo e dandogli il nome, per cui è veramente presente in ogni aspetto della vita quotidiana del romano e questo elemento qui permette che il romano nel suo scambio con gli dèi verifichi quotidianamente la validità della sua religiosità. Questo non accade sempre, non a caso esistono per esempio i libri sibillini o forme divinatorie che introducono nuovi culti o ne cambiano degli altri. A livello epigrafico vi propongo due esempi che sono interessanti, la famosa dicitura VSLM che si trovano in moltissimi donativi, che sta per votum solvit libero merito, che significa la divinità ha sciolto il voto meritatamente, cioè l'uomo fa un voto alla divinità, questa lo soddisfa e lui gli fa il dono che gli aveva promesso dicendo proprio chiaramente che la divinità ha sciolto questo voto. Un esempio contrario lo troviamo in un epigrafe che è stata ritrovata a Verona dove la moglie di questo gladiatore scrive nell'epigrafe commemorativa che Nemesi non ha mantenuto la sua parola, non ha rispettato quindi evidentemente il voto che la donna o che il marito aveva fatto, per cui è sostanzialmente una bugiarda e che al contrario è meglio affidarsi all'oroscopo perché è più attendibile. Questo è molto interessante perché quindi si vede che il rapporto con l'essere umano, con la divinità da parte del romano non è perennemente sottomesso, è un rapporto da un certo punto di vista molto umano, così come è molto umana la pietas del figlio nei confronti del genitore. Per cui vedete che il sacrificio nel mondo romano è un concetto molto complesso, non è il banale ti dono questa cosa e è finita lì. Al contrario il concetto di umano nel mondo romano è molto più vicino al nostro, è molto più semplice da capire. Non abbiamo particolari, una visione particolarmente etnica nel mondo romano o razziale come invece può essere nel mondo greco. Nel mondo greco nasce l'idea di barbaro, barbaro e chiunque non appartenga all'etnia greca. Dal loro punto di vista la dimostrazione è data dal fatto che questi non sanno neanche parlare, no, fanno sempre barbar barbar barbar, non si capisce quando parlano, da cui barbari. Certo, per cui il fatto che siano barbari e che vengono facilmente sconfitti dalla superiorità greca indica che nella loro natura essere anche schiavi ed essere sottomessi, per cui sono un po' diciamo dei subumani. Certo, ad un certo punto arrivano altri barbari da occidente che dopo aver sconfitto la più grande potenza del Mediterraneo dell'epoca, Cartagine, occupano la Grecia e quindi insomma questo sistema entra un po' in crisi, naturalmente sto parlando dei romani, e quindi diventano barbari tutti quelli che non sono romani e greci e questi romani alla fine sono un po' greci anche loro, perciò la questione diciamo, il modello greco di essere umano va un po' crolla. Nel mondo romano invece, come dicevo, la differenza tra gli esseri umani è più una questione di diritto. I primi romani arrivati a Roma, che hanno costituito Roma, sono i patrizi e i patrizi sono anche tutti i loro eredi. Quelli che arrivano successivamente sono i plebei, che hanno diritti diversi, e poi ci sono gli stranieri, i non cittadini romani, ma tutto questo non è dettato da una questione etnica, tant'è vero che le aristocrazie dei popoli conquistati in un modo o nell'altro finiscono per entrare nel mondo dei patrizi. Quindi è una questione più strettamente culturale e di diritto che non di sangue, per cui possiamo proprio dire che per i romani umani erano tutti gli esseri umani, come lo intendiamo oggi. Per cui alla fine definire sacrificio umano significa, citando Brelich, quei riti di uccisione che sono rivolti a un destinatario sovraumano, divinità antenati spiriti fetici o persino esseri umani ai quali viene dato un valore superiore. Non implicano però necessariamente un carattere cultuale, può essere anche una funzione purificatoria o divinatoria e può essere realizzata indipendentemente dal culto di esseri sovraumani, i cosiddetti riti autonomi, cioè non si sacrifica quel certo individuo a quella certa divinità, può avere anche un'altra funzione. Ecco, un esempio fra questi sono i riti di fondazione. I riti di fondazione probabilmente non erano dedicati a una certa divinità, ma in alcuni casi avvengono dei sacrifici umani, come poi vedremo. Ora, in merito alla questione dei sacrifici umani, c'è stata tutta una discussione all'interno del mondo accademico che ha prodotto una distinzione formale tra sacrifici umani e uccisioni rituali. Questo perché in moltissimi non volevano accettare l'idea che nel mondo romano si fossero fatti dei sacrifici umani, infatti lo sottolineiamo, i romani hanno fatto dei sacrifici umani, non è che li facessero abitualmente, non bisogna immaginare la società romana come quelle precolombiane che appunto compivano abitualmente dei sacrifici umani, ma ne sono stati fatti alcuni, soprattutto nei momenti di grande difficoltà. Dicevo, questa distinzione tra sacrifici umani e uccisioni rituali fondamentalmente prevede che il sacrificio umano rispetta tutte le caratteristiche del rito sacrificale che avviene anche per gli animali e è indirizzata a una certa divinità, mentre invece l'uccisione rituale è un'uccisione con numerose caratteristiche simboliche religiose. Sulla carta è chiarissimo, in pratica un po' meno. Un esempio che è difficile da contestualizzare viene da una legge delle dodici tavole che indicava l'uccisione di chiunque penetrasse in un campo altrui, cioè se di notte un uomo andava a pascolare in un campo coltivato o coglieva il raccolto di qualcun altro, la sua punizione doveva essere l'impiccagione a cerere, letteralmente. Tutti gli studiosi hanno indagato questa legge e si è compreso che alla fine doveva essere impiccato ad un albero sacro a cerere. Ora, è un'uccisione rituale o è un sacrificio umano? Sulla carta sembrerebbe un'uccisione rituale, ma se noi andiamo a vedere che significato aveva cogliere le messi da un campo, allora dobbiamo cercare, vediamo che è ben diversa la cosa. In origine esisteva un rito che si chiamava profanazio. Questa profanazio prevedeva che si donasse al fanum, cioè al tempio extraurbano, la decima parte del proprio raccolto, perché quel raccolto lì in realtà era di proprietà della divinità, era di proprietà di cerere che si era impegnata con tanto potere divino a far crescere questo raccolto. Per cui le si donava la decima parte per poter trattenere ed utilizzare il resto. Per cui nel momento in cui uno va a raccogliere, scusate, questo rito poi è caduto in parte nel dimenticatoio e si è trasformato in un rito che compivano le vestali a maggio. Nel momento in cui uno va a rubare il raccolto da un'altra persona non ha rubato solo a quella persona lì, ma ha rubato a cerere. Per cui l'impiccagione ad un albero sacro a cerere è evidentemente un sacrificio espiatorio in cui l'uomo viene ucciso per espiare quell'atto di impietà che egli ha commesso. Per cui è evidente che si configura come un sacrificio espiatorio, ma è difficile incasellarlo in questa distinzione che è stata fatta dal punto di vista accademico. Va anche detto che c'è una distinzione tra il concetto di necor e di uccisio, dove l'uccisio è l'uccisione tramite un colpo, mentre invece il necor è l'uccisione per mancazzo di qualcosa, per cui l'impiccagione rientra nel concetto di necor, ma secondo me è una distinzione puramente formale che, ripeto, all'atto pratico concreto anche del significato dei gesti che vengono fatti è difficilmente applicabile. Ora veniamo ai sacrifici umani nell'ambito italico e nel mondo mediterraneo, perché Roma non nasce nel nulla. Di solito quando si studia la storia romana la si studia indipendentemente da tutto il resto, ma questo non è corretto perché Roma, per una buona fetta della sua storia, rappresentava una cittadina microscopica nel mondo italico che contava poco di fronte alla potenza degli etruschi o dei popoli dei sanniti e per lungo tempo è stato così, solo successivamente diventerà la potenza del mondo mediterraneo. Ed è in questo periodo che molto probabilmente Roma acquisisce e compie diversi sacrifici umani. Per noi è molto interessante, come vi ho accennato all'inizio, il caso di Tarquinia. Tarquinia è la città da dove vengono i re etruschi di Roma, che non per caso si chiamavano Tarquini, dove nell'area sacra si trovano numerosi esempi di sacrifici umani. Parliamo di questa città proprio al fine di parlare dei sacrifici umani a Roma e adesso li vedremo. Allora nell'area sacra di Tarquinia, cioè nei pressi del Mundus, che era una fossa che esisteva anche a Roma, che veniva scavata e che era necessaria per la fondazione delle città. A Roma, all'interno del Mundus, erano state gettate delle manciate di terra da tutti i primi popoli che andarono a comporre questa città, ognuno portando una manciata di terra dalla propria terra d'origine. Voi sapete che Roma nasce al confine tra il territorio latino, il territorio etrusco che era appena di là del Tevere, presso l'attuale Trastevere, e il territorio sabino. Dicevo a Tarquinia noi troviamo datato al nono secolo avanti Cristo, quindi un secolo prima della fondazione della città, il cosiddetto individuo 1, cioè un bambino epilettico che era stato seppellito lì. Non si sa se sia morto di morte naturale, probabilmente sì, però forse invece vittima di exterminazio. L'exterminazio era un rito che veniva fatto anche nel mondo romano in presenza di un monstrum, cioè quando nasceva una creatura deforme veniva sacrificata a fini espiatori, cioè siccome si interpretava questa nascita come un segno nefasto, veniva uccisa proprio al fine di espiare questo segno nefasto e ciò avveniva anche purtroppo per i bambini. Tornando a Tarquinia, nell'VIII secolo avanti Cristo, quindi contemporaneamente alla fondazione di Roma, noi troviamo, oltre all'individuo 1, anche tre neonati, tutti quanti sacrificati per la fondazione di tre altari e, di poco successivo, la fondazione del cosiddetto individuo 10, un altro adulto sacrificato, del quale parleremo a breve perché è molto importante per noi. Oltre a questi poi negli stretti successivi sono stati trovati altri individui sacrificati. Per quanto riguarda Roma e strettamente vicino alla fondazione, noi troviamo a parte degli individui sacrificati all'interno del rifacimento del murus Romuli. Cos'è il murus Romuli? è il cosiddetto muro di Romulo che ricalcava la Roma quadrata, cioè la prima Roma, quella che venne fondata da Romulo. Fondata da Romulo cosa vuol dire? Che Romulo è esistito e si è messo lì con l'aratro? No. Vuol dire che ad un certo punto, a metà dell'VIII secolo avanti Cristo, la comunità di abitanti dei Colli decisero di darsi un unico centro di potere politico e religioso sul Palatino. Lì venne fatto un rito, il rito etrusco di fondazione della città, che prevedeva anche la costruzione di un solco, l'incisione scusate, di un solco che in questo caso era quadrato sul quale vennero costruite le mura. Il rifacimento di questo muro evidentemente doveva richiedere il sacrificio di alcuni uomini che infatti sono stati ritrovati all'interno delle fondazioni di questo rifacimento del muro. Oltre a questo Carandini ha ritrovato anche nell'apertura di una porta nuova, porta Mugonia, i resti del sacrificio della decapitazione di una bambina che evidentemente era necessaria per il superamento di questo solco perché questo solco era un solco sacro che era inviolabile. L'apertura di una porta in questo solco richiedeva evidentemente un sacrificio umano e forse questo evento è alla base del mito dell'uccisione di Remo quando scavalcò il solco appunto costruito da Romolo. Bene, tornando al caso di Tarquinia, dell'individuo l'abbiamo già parlato, mentre invece per quanto riguarda dei neonati sacrificati c'è un interessante parallelo nel mondo ellenistico. Ad Atene, nel santuario di Afrodite o Urania, è stata trovata una fossa con numerosi scheletri di bambini sacrificati insieme ad un coltello. Questo dettaglio del coltello per noi è interessante perché a Tarquinia sono stati ritrovati segni dell'uso di questi coltelli a fini sacrificali e è anche importante per noi per creare un grande distinguo rispetto a quello che accadeva nel mondo fenicio punico dove invece i bambini sacrificati venivano posti sui famosi tofet e arsi vivi. Bene, altri individui sempre trovati a Tarquinia invece hanno, sono stati sacrificati tramite decapitazione. Questo per noi è interessante perché a Roma troviamo vari esempi che sono paragonabili, a parte la testa ritrovata nelle fondazioni del Tempio Capitolino quando venne costruito e che ha dato poi il nome a Campidoglio, infatti testa in latino si dice caput e da lì viene il termine Campidoglio. Ma c'è anche la storia delle teste appese ai compitalia che era una festa dedicata ai lari dei crocicchi, cioè degli incroci di campagna dove c'erano questi altarini dedicati ai lari compitali e lì i Tarquini introdussero l'uso di decapitare e appendere delle teste di bambini. Lucio Junior Bruto nel primo anno della Repubblica, per cui prima cosa fatta appena cacciatire, tolse questa usanza sostituendola con delle teste d'aglio. Questa storia ha un parallelismo anche col mito di Numa e Giove dove in un momento di grande calamità Giove impose dei sacrifici umani e Numa con una serie di giochi di parole riuscì a sostituire a questi sacrifici una ciocca di capelli, una testa d'aglio e un pesce, la menula, che era un pesce particolarmente sfortunato perché veniva utilizzato spesso nei sacrifici sostitutivi di esseri umani e ne abbiamo parlato più approfonditamente nel nostro articolo. Di nuovo a proposito delle teste noi abbiamo anche in età repubblicana la condanna a subire la sacertà, cioè la consacrazione della sola testa a chiunque avesse minato il potere dei tribuni della plebe. Ora è vero che dichiarare la sacertà di un individuo non prevedeva automaticamente anche la sua uccisione, anzi una legge ci precisa che è vietato, un'indicazione di festo scusate, ci precisa che è vietato sacrificare chiunque sia dichiarato sacer. D'altro canto non era illegale ucciderlo, cioè se qualcuno avesse ucciso qualcuno dichiarato sacer non sarebbe stato perseguito, per cui l'uccisione di quell'individuo sarebbe stata vista come la manifestazione fisica dell'ira della divinità. Tuttavia la consacrazione della sola testa, cioè la sacertà della sola testa, prevede una sola necessità, cioè di separare ciò che è sacro da ciò che è profano. Del resto sacer significa separato. Un altro esempio di questo è anche una storia narrata in merito a Giulio Cesare, il quale per scongiurare un ammutinamento fece sacrificare dai pontefici e dal sacerdote di Marte due suoi legionari, sì è avvenuto questo, e con dei riti ignoti, segreti, e le due teste vennero appese alla regia. La regia in origine era la casa del re, dopodiché divenne diciamo un luogo pubblico simbolo del rex sacrificalis, cioè un sacerdote diciamo per cui anche la regia finì per avere solamente funzioni religiose. Vedete che questo caso, questa questione delle teste separate è un tema ricorrente anche nei sacrifici e veniamo finalmente all'individuo 10 che vi ho accennato prima che era un maschio ritrovato a Tarquinia, lo ripetiamo, era un maschio adulto probabilmente straniero che venne prima di tutto colpito alla testa, è sopravvissuto e dopo 3-5 mesi probabilmente di prigionia, noi sappiamo che furono da 3 a 5 mesi per via della ricrescita ossea, subì alla fine la decapitazione a causa di un oggetto angolare, quindi presumibilmente o un'ascia o comunque insomma un oggetto pesante e tagliente. Perché è interessante per noi? Perché ci permette di capire meglio uno dei supplizi capitali in Roma antica. Nel mondo romano questa forma di decapitazione prevedeva uno spazio di tempo, non avveniva in un unico momento, cioè prima l'individuo veniva frustato, dopodiché successivamente veniva decapitato. È più o meno la cosa che probabilmente accadde all'individuo 10 a Tarquinia, indice del fatto che certi supplizi capitali erano comuni a tutto il mondo italico. Questa punizione nel mondo romano si chiama Securi per Cussio e è interessante a riguardo quello che ci racconta Livio a proposito di un evento del 358. Allora siamo in guerra contro la città di Tarquinia per l'appunto e i tarquinesi vincono una battaglia, catturano 300 romani e li sacrificano nel foro. Livio usa proprio il termine immolatur. Letteralmente immolatur, che è il termine anche che ritroviamo nella legge che vi ho citato all'inizio della nostra chiacchierata, significa coprire con la mola salsa. La mola salsa era una sostanza che veniva utilizzata sempre nei sacrifici e diciamo che la conseguenza automatica del fatto che un animale venisse coperto con la mola salsa era che venisse ucciso e sacrificato. La guerra prosegue con grande sconvolgimento e sdegno da parte del popolo romano. I romani vincono, pretendono che 300 notabili di Tarquinia venissero portati a Roma per essere, Livio ci dice, fustigati e decapitati nel mezzo del foro. Ora apparentemente Livio, nei termini che utilizza, il suo fine è quello di sottolineare una grande differenza, cioè a Tarquinia viene compiuto un sacrificio umano, mentre a Roma viene compiuta semplicemente un'uccisione che ha un mero valore diciamo legislativo, profano, ma abbiamo detto che in Roma non c'è nessuna differenza reale tra sacro e profano. Infatti la decapitazione ha un'origine che è profondamente religiosa e che si lega intimamente col significato dell'origine del fascio littorio. All'origine di Roma uno dei culti più antichi è quello di Giove sul Campidoglio nei pressi di una quercia sacra. Qui venne costruita una capanna, sacra appunto a Giove Feretrio si chiamava questo culto, all'interno del quale vi era una selce, una pietra probabilmente neolitica intagliata a forma di ascia, che era sacra a Giove per un banale motivo, sfregata faceva scintille, per cui la scintilla viene messa in analogia con il fulmine di Giove. Ecco che quindi che questa pietra chiamata lapis silex è sacra a Giove e rappresenta proprio il potere di Giove. Questa cosa nel culto arcaico di Roma noi la troviamo abbastanza spesso, è il caso ad esempio delle lance di Marte che nel suo tempio, che era un'altra capanna, vibravano spontaneamente e la loro vibrazione veniva interpretata a fini divinatori per capire come sarebbe andata la guerra. Torniamo al nostro lapis silex. Questa pietra veniva immanicata su un bastone per essere utilizzata come un'ascia e veniva utilizzata soprattutto nei trattati di pace, nei trattati diplomatici che Roma faceva con gli altri popoli. Un sacerdote specializzato, dopo aver recitato la formula e sottolineato le caratteristiche del trattato, davanti ad un porco diceva una cosa del tipo, se il popolo romano violasse volontariamente o involontariamente questo trattato ti prego Giove tu punisci il popolo romano e colpiscilo così come io colpisco questo porco con tanta più forza quanto tu ne possiedi e con l'ascia che abbiamo appena detto colpisce il porco sacrificandolo. Ora questa cosa qui si è evoluta e per noi che cosa significa? Significa che l'ascia, che in origine solamente la testa sta a rappresentare Giove perché è la selce che emette scintille, ma l'ascia è il simbolo di Giove, è il simbolo di Giove che garantisce i patti e i giuramenti e l'azione di colpire il porco è la punizione che Giove avrebbe fatto sul popolo romano. Passano i secoli, quest'ascia va all'interno del fascio littorio, continua a rimanere a rappresentare il rispetto della giustizia e della lealtà, tant'è vero che veniva utilizzata dai consoli per punire i romani rei di perduellio, cioè di tradimento, fuori dalle mura della città all'interno il cittadino romano poteva appellarsi ai comizi centuriati, comunque al di fuori, insomma c'erano una serie di meccanismi correttivi, comunque il concetto magico religioso che sta dietro è questo, cioè il reo di tradimento deve essere punito con la decapitazione, si manifesta evidentemente come un sacrificio espiatorio per l'azione di aver violato un giuramento. Infatti la formula che vi ho recitato prima diceva proprio chiaramente tu Giove colpesce il popolo romano così come io sacerdote colpesco questo porco, quindi nel momento in cui l'uomo viola un giuramento viene punito da Giove per tramite dell'ascia del lettore. Quindi probabilmente quello che abbiamo visto a Roma è proprio un sacrificio espiatorio fatto sacrificando i Tarquini. Ci domandiamo a questo punto ma c'è un esempio di sacrifici espiatori fatti nel favore di qualche defunto? Ebbene sì, Svetonio ci racconta un pettegolezzo al quale egli stesso non crede, però per noi è importante la narrazione perché ci permette di capire che quel tipo di narrazione lì è credibile anche se magari il fatto non è realmente avvenuto, che quando Ottaviano Augusto conquistò Perugia fece sacrificare 300 notabili romani ai mani di Giulio Cesare, i quali, voi sapete che quando un uomo moriva si trasformava in tanti mani, i mani compaiono sempre al plurale. Se volete abbiamo trattato un articolo, abbiamo trattato questo tema delle divinità familiari compresi i mani in un articolo che trovate sul nostro sito. I mani di Giulio Cesare richiedevano di essere, richiedevano un'espiazione per la sua uccisione, quindi Ottaviano avrebbe secondo questo pettegolezzo ucciso 300 notabili romani. Per cui questo modello di scongiurare i mani con dei sacrifici umani noi già lo troviamo, per cui diventa ancora più credibile che in origine nel 358 effettivamente fosse avvenuta questo sacrificio espiatorio anche a Roma uccidendo i Tarquini. Fra l'altro sono due pettegolezzi che non si sa, cioè molti sostengono che non siano mai avvenuti perché le fonti sono delle fonti che tendevano un po' a raccogliere un po' tutto quello che trovavano, tutte le dicerie che trovavano. Io dubito che fossero consenzienti, ok, però per noi sono importanti perché propongono degli argomenti, dei temi che sono significativi per il nostro discorso. Come ho detto prima, Svetonio, che è quello che riporta l'esempio di Ottaviano e del sacrificio dei 300 notabili, lui stesso scrive io non ci credo, ok? Per questo ho detto anche che si tratta di miti, a volte si tratta di miti per cui non sempre si può dare per certo l'evento. Ma perché Livio non ce lo dice in modo sereno? Beh, per vari motivi probabilmente, è difficile entrare nella mente di Livio però ci sono varie spiegazioni. Allora, la prima è che Livio vive nell'età augustea, in quel momento glorioso in cui Roma si presenta come il massimo esempio di civilizzazione, cosa che effettivamente era, per cui non può dire, ah guardate che i nostri antenati facevano sacrifici umani, tanto più che lui vive dopo quella famosa legge del 97 avanti Cristo che vi ho citato prima. Ma se anche non fosse così, molto più probabilmente la narrazione si è evoluta nei secoli, dal 358 all'epoca di Livio passano almeno 350 anni, ok? La cultura si evolve enormemente in questo tempo, per cui anche le storie orali raccontate si sono piano piano ammorbidite, si sono trasformate. Ma noi troviamo questo modello di comportamento in altri casi? Sì, in ambito antropologico è stato attestato che per esempio in alcune società del Centro Sud America capita che figli deformi o con malattie venissero uccise dalle stesse madri negandogli il cibo o l'acqua, le quali però giustificano questa cosa dicendo che i figli sono malati di un demone, sono affetti da un demone che non gli fa assorbire il cibo, per cui loro dicono io gli do da mangiare, ma loro è come se non mangiano, rifiutano il cibo e alla fine questi bambini muoiono e loro sono sinceramente convinte di questo, non è una giustificazione davanti alla società, perché l'essere umano molto spesso non riesce ad accettare degli eventi traumatici e nel mondo romano sicuramente il sacrificio umano è un evento traumatico, per cui trova nuove giustificazioni, trova nuove interpretazioni e molto probabilmente è quello che è successo ed è il motivo per il quale Livio ci racconta la cosa da un punto di vista diciamo meramente profano. Quindi vedete come il caso di Tarquinia è molto interessante per noi anche per capire i sacrifici umani nel mondo romano. Altri esempi nel mondo italico, adesso sarò sicuramente molto più breve, dopodiché andremo a cercare di capire per quale motivo i romani facevano questo genere di sacrifici e perché li facevano insomma capire un po' meglio la questione. A Poggio Renzio, quindi sempre in ambito etrusco, noi troviamo cinque sepolture di sacrifici umani, questi inginocchiati e sgozzati. Uscendo dall'Etruria scopriamo che a Creta ci sono resti vari di sacrifici umani tra cui un cranio di donna sfondato in fronte che risale al 1280 a.C. e che è stato gettato in una fossa insieme ad altri crani di animali sacrificati. Sempre in ambito greco noi troviamo anche il sofisma dei Tessali, un'ecatombe di uomini che viene rimandata di anno in anno. In ambito celtico questo è sicuramente più noto a parte per le fonti latine e greche che ce ne parlano ma anche per i vari santuari tra cui quello di Ribemont sur Ancre, spero di aver avuto una pronuncia decorosa, dove sono state trovate più di 40.000 ossa umane di persone impalate vive e lasciate lì a morire all'interno del santuario stesso. A Padova quindi nel territorio venetico è stato ritrovato un cavallo sacrificato insieme allo stalliere anche egli sacrificato posti nella tomba con il loro signore. Vi ho già citato prima il contesto fenicio punico con i tofet dei quali che sono stati ritrovati anche nel mondo italico occupato da Cartagine per cui Mozia in Sicilia e Tarros in Sardegna. Ora viene spontaneo da dire ma se tutti i popoli del Mediterraneo compivano sacrifici umani è possibile che solo i romani non ne avessero mai compiuti neanche uno? Decisamente no, anche perché a noi romani piacciono tanto ma nella realtà erano un popolo antico come tanti. Ora c'è però una questione che fa un po' attrito. Romani popolo di legislatori, romani popolo che ha identificato anche dal punto legislativo il concetto di individuo che quindi è stato è particolarmente sviluppato anche dal punto di vista culturale. Com'è possibile che con tutta questa sovrastruttura legislativa i romani potessero compiere dei sacrifici umani? Beh secondo l'interpretazione di Francesco Sini che è un famoso studioso di diritto romano lui dice il diritto romano è basato da una stratificazione di eretto, da una stratificazione di diritti. Alla base c'è il diritto naturale, su questo si pone il diritto delle genti, sopra questo c'è il diritto latino e poi il diritto romano. Alla base di tutti questi il diritto naturale riguarda tutti, riguarda gli animali quanto gli uomini, quindi secondo diritto naturale se è possibile sacrificare un animale è possibile sacrificare anche un essere umano. Questo si può evitare sacrificando una capra che funge da sostituto così come funge da sostituto la menula, quel pescetto che vi ho detto prima, in altre occasioni sacrificali e così come si possono sostituire le teste d'aglio nell'esempio che vi ho detto prima della ricompitali eccetera eccetera eccetera. Lui d'altro canto dice beh però se esiste un sacrificio sostitutivo è perché qualcuno ad un certo punto ha deciso di sostituirli al sacrificio effettivo per cui in origine una forma di sacrificio umano esisteva e quindi ecco la giustificazione legislativa. Ora veniamo però al perché che è la domanda che io lo so che tutti si pongono, si sono posti fin dall'inizio. Beh non si può fare una regola unica che valga per tutto. Allora innanzitutto se si tratta di un sacrificio espiatorio è abbastanza chiaro chi deve espiare deve essere sacrificato come il caso che vi ho detto prima di quello che penetra nel campo e ruba a cerere per proprio interesse e quindi viene sacrificato e appeso ad un albero sacro a cerere. Se è la comunità ad aver commesso questo reato? Beh viene sacrificato un solo individuo secondo il principio dell'unum pro multis cioè l'uno per tutti. Questo fra l'altro viene citato anche nell'Eneide nel caso di Palimuro quando ad un certo punto Nettuno pretende che vengano sacrificati tutti quanti e invece Palimuro viene sacrificato per tutti e gettato nel mare e Nettuno contento poi lascia andare Enea e gli altri. Che poi fra l'altro è un'analogia della pars prototo cioè si sacrifica una parte per conto del tutto questo prima non ve l'ho citato ma nel caso di Tarquinia noi troviamo certi sacrifici umani dove solamente una parte viene posta al di sotto dell'edificio e sta a significare che lì è stato fatto quel sacrificio per conto di tutto quanto il resto. In merito a questo esempio appena fatto di Palimuro è per noi interessante fare un confronto cioè molti secoli dopo all'interno della polemica e dello scontro tra cristiani e pagani l'interpretazione che i romani davano al cristianesimo era che loro avessero fatto un sacrificio umano per quanto riguarda Gesù cioè ritenevano che egli fosse stato sacrificato per le colpe di tutti partendo da una interpretazione che davano di quello che gli stessi cristiani dicevano no? I cristiani dicevano Gesù è morto per espiare le nostre colpe e quindi i romani dicevano ah quindi è un sacrificio umano. Questa cosa qui fra l'altro si era estesa e molto spesso ritenevano che l'eucaristia fosse quando i cristiani dicevano questo è la carne il corpo di Cristo pensavano che fosse veramente la carne e il corpo di uno per cui pensavano che i cristiani facessero del cannibalismo. Questo però rientra tutto quanto nella polemica tra cristiani e pagani perché poi i cristiani accusavano i pagani di fare la stessa identica cosa cioè di fare abitualmente sacrifici umani anche se all'epoca quando arriviamo nell'età imperiale i casi di sacrifici umani sono rarissimi solo in ambito privato e perseguitati in ogni modo e attribuiti solamente a gente feroce o folle come Eliogabalo ok? Nella realtà non venivano più fatti però anche i cristiani accusano i pagani di farne e fanno alcuni esempi per esempio ogni anno quando veniva fuori tirata quando veniva tirata fuori la stato di Giove laziare non laziale non vi sbagliate laziare questo veniva ai loro occhi bagnato col sangue di esseri umani per cui questa polemica questo scontro riguardava poi entrambi e è un esempio interessante anche per dire che l'aspetto dei sacrifici umani poi con l'evoluzione culturale andando avanti nel tempo non è più sintomo di un'intima profonda forma di devozione della comunità che dona una cosa molto importante agli dei ma diventa una cosa orrida con la quale accusare la controparte oppure ci sono i sacrifici di fondazione già vi ho detto prima nel caso del muro e in questo Fraser aveva fatto un'interpretazione che molto probabilmente però non è veritiera però secondo me rende molto motivo per cui ve la cito cioè secondo lui i termini cioè quelle pietre terminali che determinavano il confine sacro e che erano poste all'interno del muro dopo che è stato creato il confine sacro venivano vivificate con del sangue umano ripeto questa interpretazione di Fraser è stata superata per cui molto probabilmente non è vero ma rende molto bene l'idea e la presenza di un essere umano sacrificato all'interno del rifacimento del muro di Romolo che sono stati ritrovati ripeto per cui non si può dire che non è così o che è un'interpretazione delle fonti cioè c'è il dato archeologico sta a rappresentare proprio questo cioè la vivificazione oppure la creazione di una specie di entità di un usiamo questo termine semplice di un feticcio di un fantasma che garantisce la difesa di quel muro a tal proposito la vivi la vivi sepoltura delle vestali quando una vestale violava la castità veniva sepolta viva all'interno di una camera questa camera si trovava proprio sotto le mura cosiddette serviane e molto probabilmente serviva per garantire ancora una volta la difesa di Roma bene ora detto questo capiamo perché proprio l'uomo allora ci sono varie interpretazioni che possiamo fare secondo me almeno due l'interpretazione è strettamente materiale vi ho detto all'inizio che il valore del sacrificio non è tanto nel valore di quello che viene sacrificato ma di quello che uno si toglie un patrizio non avrebbe mai sacrificato alla divinità se non magari in qualche occasione un granellino di incenso così posto in modo molto diciamo braccino corto perché lui aveva grandi possibilità per cui lui consacrava agli dèi un intero tempio il plebeo che non aveva niente per lui sacrificare un granello di incenso era di enorme valore però il la pietas è retta dalle possibilità anche del singolo individuo per una famiglia togliersi l'individuo togliersi un membro della famiglia ha un grande valore anche emotivo ma dal punto di vista statale a noi oggi potrebbe sembrare che non vale niente ma all'epoca un individuo voleva dire forza lavoro voleva dire tutta una serie di legami familiari sociali cioè era un problema sacrificare un essere umano non era una cosa così facile per cui così già se già è di grande valore l'offerta di un animale l'offrire un essere umano lo è ancora di più invece interessante ho trovato un'interpretazione di carattere magico religiosa che si regge su un principio un po diverso cioè se l'essere umano ha un valore superiore all'animale e l'animale ha un valore superiore alle piante è chiaro che se io sacrifico un animale ha un valore maggiore rispetto che se sacrifica una pianta si trovano anche offerte vegetali nel mondo romano incenso farro latte vino latte va bene non è di carattere vegetale comunque che non prevede l'uccisione di una creatura quindi se l'offerta animale vale più di quella vegetale al scusate se l'animale vale più del vegetale allora l'offerta di un animale vale più del vegetale se l'essere umano vale più dell'animale il sacrificio di un essere umano vale di più dell'animale anche perché l'animale si trova l'essere umano si trova in una posizione a metà strada tra gli animali e gli dei per cui è un'offerta di grande valore un esempio interessante è il caso dei ludigladiatori che in origine molto probabilmente erano dei giochi in onore del defunto utilizzati grosso modo in tutto l'ambito italico questi giochi gladiatori però assumevano una forma sacrificale cioè molto probabilmente dei due quello che rimaneva ucciso doveva essere interpretato come un sacrificio o comunque in questo caso più probabilmente come un'uccisione rituale nel tempo i giochi gladiatori perdono tutto questo significato connesso al mondo dei morti diventando come dire un aspetto ludico della società romana e tutti via tuttavia alcuni aspetti sono interessanti a premettiamo i ludigladiatori al tempo dei noi delle nostre fonti a parte non avere più un aspetto religioso particolarmente rilevante non sempre portavano alla morte del gladiatore il gladiatore incarnava vincitore incarnava ercole ma incarnava ercole anche il gladiatore che seppure sconfitto non si arrendeva per cui molto probabilmente la possibilità di vincere di sopravvivere era strettamente legata a quanto il popolo sarebbe stato contento di vedere il gladiatore non arrendersi mai ma continuare a combattere all'infinito però vi è un aspetto un po truculento che visto che stiamo parlando di questo è molto interessante allora le fonti ci riportano alcuni suggerimenti in merito al fatto che la cosa migliore da fare per la propria salute per la propria forza era bere il sangue dei gladiatori sconfitti se possibile caldo se possibile direttamente dalla ferita del gladiatore perché succhiando il sangue si sarebbe assimilata anche l'anima del gladiatore stesso a darci questa indicazione è plinio nella storia naturale plinio fra l'altro suggerisce di non fare la stessa identica cosa con gli animali e poi prosegue nel suo testo sottolineando altri aspetti truculenti come mangiare il fegato o lo stomaco per cui veramente io non lo so se effettivamente i romani facessero di queste cose ma plinio le descrive e anzi in un certo senso lo suggerisce come cura contro l'epilessia e per come vi ho detto per rafforzarsi chissà se quell'individuo uno di tarquini avesse bevuto il sangue dei gladiatori magari non faceva la fine che ha fatto ma c'è un altro aspetto e una fonte molto più attendibile rispetto a plinio che è festo ci parla del dell'asta coelibaris era una punta di lancia con la quale le donne che dovevano sposarsi si legavano il i capelli e questa questa punta di lancia era un giavellotto che doveva essere bagnato nel sangue di un gladiatore ucciso purtroppo ci dà solo questa indicazione così questa istantanea senza darci ulteriori indicazioni anche qui è difficile da pensare che ogni donna che si era sposata nel mondo romano avesse preventi si fosse preventivamente assicurata che la punta di lancia fosse stata conficcata nel costato di un gladiatore però certamente è per noi un esempio interessante il più noto dei sacrifici umani che sono stati compiuti nel mondo romano era quello dei due galli e dei due greci questo sacrificio avviene per ben tre volte nel mondo romano nel 228 nel 216 nel 113 il primo caso come protezione da una nuova guerra contro i galli il secondo come protezione dopo la disfatta di canne e il terzo per stornare una serie di segni nefasti come una donna e un cavallo fulminati trovati in posizioni indecenti questi tre sacrifici hanno tre caratteristiche comune sono stati indicati dai libri sibillini prevedono la messa a morte di un greco e una donna una greca una donna greca e due del popolo gallico anche loro di sesso di sesso opposto e tutti e tre vengono gettati in una fossa nel foro boario sia Livio sia Plutarco nel descrivere questo rito si apprestano anche a dire che non era un rito romano per cui stornando allontanando diciamo il senso di colpa diciamo da da sé e che cosa succedeva venivano condotti queste quattro persone venivano condotte nei pressi di questa fossa e gettati vivi all'interno Livio fra l'altro ci dà un'indicazione interessante cioè lui dice che quando questa fossa venne aperta la fossa forse non l'ho detto era all'interno del foro boario che era un foro che si trovava grosso modo ai piedi del Campidoglio per cui proprio in centro a Roma dove generalmente si facevano gli accordi commerciali gli scambi per quanto riguardava le bestie gli animali e dove si trovava anche l'ara maxima di Ercole insomma questa fossa nel foro boario viene aperta e Livio ci dice che quando viene aperta era ancora pregna del sangue dei sacrifici precedenti quindi ne erano stati fatti altri molti altri forse più rispetto a questi tre quindi i due Galli e i due Greci vengono gettati vivi all'interno e la fossa richiusa Dio solo sa che cosa succedeva lì sotto fatto sa che era una forma sacrificale che le fonti ci dicono che aveva come scopo un piaculum era un piaculum per cui una forma piacolare per stornare degli errori che erano stati fatti è interessante però l'uso proprio di due Greci e due Galli perché due Greci e due Galli molto probabilmente perché erano il simbolo del diciamo del nemico per molto tempo Roma è stata in guerra con i Galli di certo il Greco era era visto come lo straniero per eccellenza i Romani commerciavano molto con i Greci hanno per molto tempo commerciato con i Greci prima di inglobarli per cui diventano facilmente il simbolo dello straniero che viene da noi a commerciare per cui i Greci e i Galli stanno a rappresentare lo straniero e nel sacrificare lo straniero ponendoli sotto terra per cui probabilmente dedicandoli a le divinità degli inferi per la salvezza del popolo romano loro in loro per analogia dedicavano agli inferi il nemico contro il quale stanno combattendo questa questione dell'analogia è molto importante in tutti i concetti magico religiosi tutto quello che viene fatto in magia nella magia antica ma anche nella magia rinascimentale medievale sempre è retto da un principio di analogia cioè io ho questo oggetto che ha un valore simbolico e per cui per analogia nel mio nel contesto del rito trasformo la realtà che si manifesta all'interno se io fossi un sacerdote il gesto di indossare gli occhiali quando c'è brutto se fosse all'interno di un rito sarebbe un gesto propiziatorio finalizzato a far uscire il sole perché perché gli occhiali si indossano quando c'è il sole per cui io indossando gli occhiali nel rito perché lo spazio all'interno del rito è uno spazio sacro per cui è uno spazio separato dal mondo diciamo profano indossando gli occhiali vado a creare un'influenza sul mondo esterno ecco che quindi l'uso di due greci e due galli scusate l'esempio molto semplice e banale ma è molto terra terra e spero che renda chiaro il meccanismo il sacrificio di due greci e due galli che stanno a significare lo straniero dedicandoli ai alle divinità degli inferi significa dedicare tutti i nemici tutto il concetto di nemico alle divinità degli inferi a proposito di dei degli inferi e di consacrazione del nemico agli dei degli inferi l'aspetto più eroico più brillante forse per noi anche più facile da capire di sacrificio umano è la devozio di decimure o meglio la devozio dei decimure perché anche questa è avvenuta in tre occasioni diverse da tre decimure diversi che sono la battaglia del Vesuvino nel 340 la battaglia di Centinum del 295 e la battaglia di Ascoli Satriano nel 279 cos'è la devozio allora nel momento in cui il comandante romano si trova in difficoltà contro il nemico e sta perdendo la battaglia interroga un sacerdote per farsi suggerire le formule rituali corrette questa formula rituale noi ce l'abbiamo tutta quanta ce la riporta Livio non ve la leggo per non annoiarvi perché è veramente lunga ma per noi è importante il fatto che vengono invocate tutta una serie di divinità che sono positive per il mondo romano Giove Bellona eccetera e poi separatamente anche gli dei mani e una serie di divinità infere e gli si dice io io console che sto compiendo questo rito mi consacro alle divinità degli inferi e prego voi dei tutti quanti di essere propizi al popolo romano per fargli vincere la battaglia questo rito però è molto complicato il l'ufficiante che è anche il sacrificio contemporaneamente dice queste formule indossando la toga alla miniera alla miniera dei gabini il si chiama cinctus gabinus cioè la toga viene fatta girare arrotolandola intorno alla vita annodandola e questa già è una caratteristica diversa perché generalmente nei riti romani c'è la prescrizione di non indossare nodi tenendo il capo velato questo invece è tipico del rito romano l'uomo Decio Mure sta in piedi sopra una lancia che rappresenta simbolicamente Marte tiene le due dita sul mento in questo modo qui e con la mano alzata recita la formula alla quale vi ho accennato prima dopodiché monta a cavallo e si getta a capofitto contro il nemico nelle prime due occasioni di questa battaglia quindi la battaglia del Vesuvio la battaglia di Sentinum il nemico inorridito da questa scena gli si getta contro lo uccide a quel punto si trova in uno stato di confusione gli arcieri cominciano a lanciare frecce da tutte le parti è il panico contemporaneamente i soldati romani riprendono vigore quasi presi da un potere magico dall'intervento divino attaccano il nemico e lo sconfiggono definitivamente vi ho precisato che ciò è accaduto nei primi due casi perché in realtà nella battaglia di Ascoli Satriano il rito non funziona cioè è andato male insomma non può sempre le ciambelle non escono sempre col buco per noi poi sono interessanti tutta una serie di altri dettagli nel caso in cui colui il quale ha compiuto questo rito sopravvivesse egli è considerato un ex secratus cioè è un uomo che deve essere escluso dalla società come se fosse un fantasma non può più fare nessun tipo di rito l'unica cosa che può fare è donare le proprie armi a vulcano onestamente è difficile da capire il motivo di questa cosa però l'unica cosa che può fare e questo ha una serie di conseguenze perché il console che compie questo rito e sopravvive in automatico decade perché nella società romana come vi ho detto prima il mondo sacro il mondo profano sono fusi insieme e il console è obbligato a compiere tutta una serie di riti sacrificali per conto del popolo romano se lui non li può più compiere è chiaro che la sua carica decade adesso lui è considerato a tutti gli effetti un morto che cammina perché consacrato agli dei mani è come se fosse un uomo carico di divinità inferi di morti di tutto ciò che c'è nell'aldilà che i romani fanno di tutto per tenere lontano dal loro mondo pensate che c'era una festa a maggio che si chiamano le muria dove in tre giorni diversi il pater familias la notte si deve svegliare a mezzanotte e compiere un rito che è descritto nei minimi particolari da ovidio il cui unico obiettivo è quello di cacciare i mani perché nel periodo dei lemuria i mani cioè gli spiriti degli antenati ritornano dal mondo dei morti e vanno ad occupare le case dei viventi e lì il pater familias li deve cacciare con delle offerte di fave per cui una pianta strettamente legata al mondo dei morti e li caccia e lo deve fare tenendo il capo velato e facendo il gesto della mano fica che è questo gesto qui mano fica è un termine italiano sopravvive questa nella tradizione popolare noi non sappiamo come venisse chiamato nel mondo romano e facendo dei rumori schioccando probabilmente le dita e dopodiché deve suonare dei bronzi e purificarsi più e più volte e mentre fa questo rito lui deve tenere fare questo gesto in avanti onde evitare che questi mani gli compaiono davanti perché coloro i quali vedono questo mane che nello specifico si manifesta sotto forma di un lemore o di una larva anche qui è complicata la definizione di queste entità rischia di perdere la testa di diventare folle di diventare un larvatus cioè un uomo che è stato preso che è vittima di una larva per cui un uomo folle che delira quindi vedete quanto è importante rispettare tutti i dettagli del rito e quanto è importante per i romani tenere i morti lontani dal mondo dei vivi bene il console che è sopravvissuto è già proprietà è già pregno dei mani del mondo dei morti dei mondi della terra e quindi deve essere mantenuto lontano dalla società tuttavia il rito deve essere portato a compimento per cui in quel luogo dove lui è sopravvissuto viene seppellita una rappresentazione una statua che ha le sue fattezze viene sepolta e lì in quel luogo nessun console può mettere piede perché è stato compiuto un atto esecrabile uso questo termine volontariamente in analogia col termine latino execratus un gesto esecrabile la sopravvivenza di un uomo sacro ai mani e quindi loro non possono andare lì onde evitare di intaccare l'autorità del console che ha commesso scusate intaccare l'autorità della carica la carica di nuovo l'analogia che compare nel mondo magico religioso il console per cui è una carica che va a compiere un atto esecrabile per cui quel luogo diventa in un certo senso esecrabile anch'esso e bisogna evitare che la carica del console nuovo venga intaccata da quest'atto diciamo empio bene riassumiamo un po' tutto quello che abbiamo detto i romani facevano sacrifici umani ni i romani hanno fatto dei sacrifici umani la quantità di esempi che noi ritroviamo che sono insomma più apparentemente consistenti nella realtà vanno spalmati su un arco temporale di almeno 1300 anni e inoltre la gran parte di questi esempi va concentrata in un'epoca arcaica precedente al quinto secolo avanti cristo molto probabilmente anzi spesso riferita a un periodo mitico questo che cosa vuol vuol dire vuol dire che in alcuni casi potevano essere riproposizioni dello stesso mito l'esempio che vi ho fatto prima di numa e giove con giove che richiede sacrificio umano e quello di lucio giugno brutto che fa sostituire le teste sacrificate ai lari compitali con delle teste d'aglio molto probabilmente è la riproposizione dello stesso mito però attribuita a due eventi differenti questo non vuol dire che non ce ne fossero stati perché se no non ci sarebbe alcun esempio alcun mito alcuna fonte né nessun dato archeologico sicuramente ci sono stati ma in maggioranza in un'epoca molto arcaica probabilmente anche per la particolare violenza di quell'epoca per cui non bisogna immaginare i romani come dei sacrificatori umani seriali e che ne facessero quotidianamente ma alcuni ne hanno fatti e l'eccezionalità di questi sacrifici secondo me è molto interessante e ci permette di entrare nel dettaglio e di capire anche tutta una serie di meccanismi della religiosità romana per esempio il concetto di sacrificium che vi ho detto all'inizio ma anche il concetto di umano ma anche i parallelismi che si possono fare con società vicine che hanno dato tanto a Roma uno di questi esempi è quello di Tarquinia e dell'area sacra del quale vi ho parlato prima bene io vi ringrazio per aver ascoltato fino alla fine adesso se ci sono delle domande sono a disposizione e se volete possiamo anche entrare nel dettaglio di qualche esempio grazie